La prima volta che senti parlare di robbie ero con i miei genitori a Rifugio Corò, ero solo un bambino. In tutti questi anni l'ho attraversato il lungo e il largo. Ora è giunto il momento di farle a modo mio, tutto in un fiato. È un viaggio che partirà da molto lontano. Ripercorrerò la storia di queste robbie che tanto ci hanno dato e tanto hanno ancora da regalarsi. Da vecchi libri ho scoperto storie fantastiche di queste montagne e ora è giunto il momento di raccontarvele. Questo viaggio comincerà sabato 6 luglio a Cassiglio, in Alta Val Brembana e terminerà domenica al passo della Presolana. Tanti chilometri ricchi di emozione, assieme a tanti amici. Tanti amici Grazie a tutti.